Io non mi fido di te, hai capito? Non mi fido! Quando ti capiterà di incontrare di nuovo un uomo come quello? Tranquilla, mamma, tornerà. Tornano tutti. Onam e io abbiamo una relazione. Per favore, torna a sederti. Ayaz, calmati. Dimmi, Ayaz, forse pensi che mio padre non sia all'altezza di tua madre? Eh, forse anche loro hanno preso una decisione apprettata. Distruggi anche il loro rapporto. Andiamo, coraggio! Hai dimenticato questo. È esattamente come l'ho visto. Di che parli? Ho visto proprio questo posto in sogno. Oiku! Oiku, stai bene? Oiku! Il fatto è che... Non sono svenuta. Ho finto di svenire. Ma perché? Per colpa di quel ragazzo là. Mete! Se adesso esci da questa casa, non tornare mai più. Il bacio prima provano un certo senso di rimorso, poi però ne vogliono ancora. Ti ho detto che non ricordo il bacio. Lo capisci o no? Abiterà qui, d'ora in poi. Un appuntamento romantico. Eh? Che hai detto? Eh, che ho detto? D'accordo. Allora ci sto, andiamo a cena. Passo a prenderti. No! Aaaaaaah!